Anche in questa stagione la LND conferma il progetto relativo alle società di eccellenza e promozione che valorizzeranno i giovani nell'ambito della regular season. Usufriranno dell'incentivo quei club che schiereranno un maggior numero di ragazzi rispetto alla quota prevista. Alle società sarà assegnato un punteggio relativo all'impiego dal primo minuto in gare ufficiali di giovani calciatori in aggiunta appunto a quelli previsti per regolamento. Uno nato dal primo gennaio 2003 e un altro nato dal primo gennaio 2004. Anche se non verranno presi in considerazione i prestiti dai professionisti, mentre saranno escluse dal calcolo le ultime tre giornate di campionato. Per chi svolge attività di settore giovanile contestualmente nelle categorie allieve giovanissimi scatta un bonus del 20% dei punti totalizzati. In eccellenza e in promozione è previsto un premio di 6.000 euro per le prime classificate, 4.500 euro per le seconde, 3.000 euro per le terze e 1.500 per le quarte classificate.